Si terrà domani a Capaccio Pestum la seconda edizione del festival del cortometraggio Legalità in corto, ideato nell'ambito del progetto Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale 2017-2018, che da anni vede impegnati numerosi studenti della provincia salernitana e non solo. Saranno premiati domani alle 20.30 presso il Linora Village di Capaccio Pestum i sei cortometraggi vincenti realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici salernitani che hanno aderito al progetto.